Vai ste! Allora, siamo un po' nei guai che c'è troppa neve Secondo me dobbiamo tornare indietro Ho dormito in posti peggiori La mia maglietta ha appena toccato della cacca di tomo Questa va nella mia top 5 Sì, lo so cosa state pensando Davide, perché le tue escursioni finiscono sempre così? Porca b**** Ragazzi, io non so cosa rispondervi Ma questa volta è successo davvero di tutto Mi chiamo Davide E ho una predisposizione per mettermi nei guai in montagna Per carità, non lo faccio mica di proposito Però credo che dalle esperienze difficili Nascano i ricordi migliori A patto che si sopravviva E l'inizio di queste storie è sempre più o meno così Allora, iniziamo già a sentire i tuoni Che nemmeno siamo arrivati E la situazione inizia già ad essere un po' interessante, va? Classico Ci troviamo in Val di Tures In provincia di Torino La nostra destinazione è il bivacco Tornior Quasi 900 metri di salita lungo questa valle Che dovremmo coprire in circa 3 ore Ci separano dal nostro rifugio notturno Tutto molto bello Peccato che non appena scendiamo dalla macchina Siamo colpiti dal primo presagio di morte Allora, siamo partiti da poco E abbiamo incontrato una signora che ci ha detto Che raggiungere il bivacco è praticamente impossibile Questa mattina due persone sono andate con le ciaspole E ci hanno messo 5 ore invece che 3 Sprofondando fino alle ginocchia Genna cosa ne pensi di questa rivelazione della signora? Un presagio Ce ne penseremo tra qualche ora Io ho una regola Se una signora del posto ti dice che in gym non ci puoi arrivare Io le devo credere I presagini morte vanno sempre ascoltati Specie se coinvolgono il fattore neve E noi siamo senza ciaspole Sono le 5 e mezza E mi sa che oggi non sappiamo dove dormire Non solo siamo senza ciaspole Ma qualcuno anche senza scarponi Che se diranno i giornali tutti noi Guardando l'abbigliamento di Daria Pensando che al bivacco non ci saremmo arrivati Iniziamo ad interrogarci su dove dormire Possiamo usare delle tavole di legno Il legno è un sacco poroso Quindi c'è aria E l'aria è la cosa più isolante che c'è Quindi ci salverà il culo stanotte Questa è una tavola molto isolante Ottima per dormire la notte Sembra tipo una bar Ho dormito in posti peggiori Le premesse non sono ottime Pensandoci bene La signora di prima ci ha detto che si potrebbe dormire in una casermetta O almeno così l'ha chiamata lei In prossimità di una borgata a circa metà strada Alla peggio ci saremmo potuti fermare lì Ma improvvisamente un barlume di speranza Illumina la nostra salita Allora stiamo proseguendo nella valle Abbiamo incontrato altri due signori che ci hanno detto che secondo loro non c'è tutta questa neve E non so a chi credere sinceramente Ovviamente avrei creduto volentieri due signori Se non rischiamo non possiamo fermare le cose Quindi bisogna rischiare Sì sì Magari la signora si sbagliava Magari intendeva un altro bivacco Non il nostro caro e raggiungibile Bivacco Tornior Diciamo che Gennaro sente odore di pioggia E io sento rumore di tuoni Ormai avevamo preso una decisione Al bivacco ci saremmo andati O almeno ci avremmo provato Passata circa un'ora e trenta dalla nostra partenza Raggiungiamo le casette Che in caso di emergenza sarebbero diventate il nostro rifugio notturno Sono cocci di vetro da per terra Quattro ristoranti Questa è la nostra porta ragazzi Bisogna andare così È comunque più ordinata di casa mia Poi arrivano i cinghiali di notte Beh sicuramente non ho dormito in posti peggiori Niente finestre Completamente sporco E pieno di escrementi Ma signori miei questa baracca ha anche dei difetti Allora l'idea è questa Se inizia a diluviare O se scopriamo che non possiamo più proseguire Dormiremo in quel casolare che abbiamo visto prima Meglio di niente Se già di insicurezze ne avevamo tante Arriva subito una difficoltà nuova A metterci il bastone tra le ruote Un torrente in piena taglia completamente il nostro sentiero La corrente è forte Di guadare non se ne parla Saltare invece è rischioso con quegli zaini molto pesanti L'unica soluzione che ci viene in mente È costruire un ponte Però non lanciamolo Ok non funziona Dobbiamo saltare Ma senza zaini Andiamo Bene sono queste le avventure che mi piacciono Imprevisti Difficoltà Incertezza Quando usciamo dalla nostra zona di comfort Le esperienze acquisiscono un valore maggiore Ma c'è una soglia Oltre la quale l'inaspettato non ci piace più E presto ci saremmo ritrovati costretti A superare questa soglia E a prendere decisioni rapide Che avrebbero capovolto le sorti della nostra avventura Le profezie I presagi I presentimenti Esistono Per esaudirsi Arrivati quasi alla fine della valle Dove risiede il bivacco Tornior Ci rendiamo conto che la signora forse aveva ragione Camminiamo adesso su un manto di neve Che se pur sottile inizia a preoccuparmi Si tratta di quella neve che sembra più una pappetta bianca che altro Al di sotto della quale però troviamo fango e anche acqua Per evitare di bagnarsi d'aria con i suoi sandali Si sposta sulla destra orografica del torrente E cerca di raggiungere il bivacco all'asciutto Noi invece proseguiamo su neve sempre più alta Vai Ste E la situazione inizia a diventare pericolosa Qual è stato il momento più drammatico? Eh, quando sono caduto fino alla vita nella neve Ho perso una bacchetta Pure il cellulare E ho dovuto riprenderlo Stavo girando le mani Poi Ste è caduto in un lago ghiacciato E ho pensato davvero che saremmo morti Eppure il bivacco era lì In vista Però ho pensato perché deve finire sempre questo Siamo un po' nei guai che c'è troppa neve Più che altro ci sono tipo dei mini laghi di acqua E si rischia di finire giù Stefano era quasi scivolato Proprio in una di queste conche Piene d'acqua e ricoperte di neve Secondo me dobbiamo tornare indietro Anche perché sta per sopraggiungere la nebbia E poi non vedremo più niente La parte più brutta è stata sicuramente quando Eravamo bloccati su con... tutta con la neve E stava arrivando la nebbia E sostanzialmente avevo una paura matta Che ci inghiottisse E che non avremmo visto più niente Daria poi si era pure allontanata E temevo che non l'avremmo più ritrovata In tutto questo Daria era ancora lontana E non riuscivamo a comunicare a voce con lei Pensava che saremmo tornati indietro E che l'avremmo raggiunta dalla porzione senza neve Meglio tornare sulla strada E tornare in sicurezza giù Noi invece ce ne volevamo proprio andare Ma che poi tu ti eri dispersa là in fondo E non sapevamo se stessi tornando oppure no E quindi eravamo preoccupati Perché dicevamo Ma adesso ce ne dovremmo andare senza Daria Stavo vedendo Se facevate il giro Alla fine Daria capisce Che noi avevamo rinunciato al bivacco Tornior E finalmente ci ricongiungiamo Adesso non ci resta che tornare giù Con la santa pazienza E accamparci nella casermetta Consigliata dalla signora profeta Allora secondo me proseguire era troppo pericoloso Cioè avremmo rischiato di rimanere bloccati da qualche parte col buio Se avessimo avuto più tempo avremmo provato Ma la scelta più saggia è scendere E sono sicuro che abbiamo preso la decisione giusta Nella notte più buia Dopo più di un'ora Raggiungiamo la casermetta Quali sono state le tue impressioni quando sei entrato in quella baracca di m**** Può dire m**** Ve lo bippo Non è un problema Era piena di m**** di toff E era piena di cocci di bottiglia Praticamente se li tagliavi Toccavi una di quelle cacche E rischiavi di morire in tre mesi Vabbè sempre di più di quello che ci aspettava Se avessimo tentato il vivacuo La baracca non è provvista Né di porta né di finestre Ma che roba è? Allora questa è polenta concia Con il brì avanzato da Gennaro Sottilette da casa E poi la sottomarca della Simmental Che è la manzo tipo Ed è un luogo così sporco e abbandonato Che l'unico modo per non pensarci È bere vino Bolla Valpolicella 3.6 su Vivino La legge mi dice che questo è un escremento di Popo? È un po' grosso Che c***o è allora? Praticamente abbiamo deciso di mettere il cibo avanzato Lì gli scarti insomma fuori Perché temiamo che qua dentro entri di tutto Visto che non c'è una finestra, non c'è una porta L'unico problema è che lì fuori c'è proprio il vuoto Può entrare qualsiasi cosa stanotte qua Gennaro I materassi da porre sulle reti sono appesi al soffitto Credo per evitare che siano rosicchiati dai topi Che schifo L'unico mattina ti alzi e mettivi lì a terra E inizi a sanguinare Abbiamo costruito questa specie di letto in quattro In qualche modo Sono sicuro che riusciremo a dormire almeno un'ora dai Ciao piccola stellina come stai? È la mia maglietta appena toccato della cacca di topo Quindi potrebbe andare meglio Questa va nella top 5 Dei momenti più larghi Momenti Euro spin Distrutti ma sani e salvi ci addormentiamo nella nostra baracca Consapevoli di aver vissuto un'avventura fuori dal comune Finalmente ci siamo svegliati in questa nostra casetta Un po' sgangherata Però mi sento meglio Mi sento riposato E adesso siamo pronti per scendere La servo in forchetta Così Come ho detto all'inizio Ho una predisposizione per mettermi nei guai in montagna Però credo di avere anche una predisposizione a vivere esperienze assurde È stata figa l'esperienza di dormire in un bivacco di fortuna Nel senso aperto Così super random molto fiero Comunque per me dovevamo dormire per forza là dentro È stata un'esperienza da raccontare davvero ai nipoti Cioè alla fine come dico sempre io Sono proprio nelle situazioni inaspettate, imprevedibili, difficili Che si trovano le esperienze migliori Dormire lì era davvero fuori dalla nostra zona di comfort Però secondo me ce lo ricorderemo per sempre E ce lo ricorderemo sicuramente per tutta la vita Ma vi prego Ascoltate sempre le signore che incontrate in montagna